Allora Magnoni, quando ria questo buracchio in mazio? Dice che sta a ria, Alba, dice che sta a ria. Come sta a ria? De Donizia che diceva che sta a ria! Dio mio caso in Turchia Per prenderci il bomber ottomano Ma il pesiktas non lo molla, non lo lascia andare via Ma il sogno, il maz, è la mantia Ma burac, ma burac, ma burac Quando cazzo arrivas tu burac il maz Ogni giorno sui giornali leggo che lui arriverà Ma poi invece sta sempre a desinta Ma burac, ma burac, ma burac Ma burac lì ma il pesiktas non lo so sta Leggo adesso che me l'uso punta forte su tazza Ma noi no, vogliamo burac il maz Guardami il mazio! Ecco! Vai presidente!